ciao ragazzi bentornati nel canale in questo video andremo a vedere dopo alcuni mesi di utilizzo della vettura elettrica lo stato di vita della batteria con questo dispositivo che avevo già fatto vedere in un precedente video questo si collega alla presa obd della vettura per la lettura dei dati o comunque fatto il video riguardo a questo prodotto lo troverete nella mia playlist andiamo a vedere lo stato di carica della vettura è da tanto che non lo utilizzo quindi nelle impostazioni avrò un po di difficoltà a ricordare tutti i passaggi per trovare le celle tutte queste cose comunque andiamo a vedere ora vi faccio vedere tramite la app can z e il dispositivo che avevo acquistato per monitorare il nello state of health della batteria dell'auto vi faccio vedere un attimo i parametri della batteria allora vediamo un po questa è la temperatura dei del pacco batteria più o meno simile in tutte le le celle vediamo un po lo state of health qui non è non è menzionato vediamo un po se lo trovo alla questa è la ricarica moduli temperatura state of health siamo al 90 per cento vedete qua al dove digito quando io ho acquistato l'auto e lo state of health era del 91 per cento quindi ha avuto un degrado dell'1 per cento qui abbiamo lo stato reale di carica e all'87,2 per cento utilizzabile 88,5 per cento ho utilizzato non so cosa voglia dire questo comunque allora dovevo cercare dovevo cercare le celle le celle vediamo un po se le trovo allora questo l'ho già visto no nemmeno questo stanno entrando 1,7 kilowatt in batteria perché siamo al 92 per cento di carica non riesco a trovare non riesco a trovare il le celle eccole qua queste sono tutte le celle della batteria sono più o meno tutte equilibrate abbiamo una differenza di millivolt di 15 14 15 quindi abbastanza equilibrato il pacco batterie dell'auto niente tutto qua volevo far vedere un po lo stato di vita della batteria mi raccomando iscrivetevi al canale ci vediamo nel prossimo video buona giornata a tutti buona giornata a tutti